Qui oggi abbiamo l'onore di avere un campione del mondo, signori, un vero campione del mondo, Emanuele Gambini, recentemente si è laureato campione del mondo di Biathle a Weiden in Germania, ma adesso gli lascio il microfono e lascio a lui il racconto di questa meravigliosa impresa. Tra l'altro un consigliere comunale, signori, campione del mondo abbiamo a Pesaro. Sono campione del mondo della mia categoria, dei 50 anni, ho vinto la mia gara battendo anche tutti i quarantenni che erano presenti in gara in quel momento, quindi questo mi dà ancora più orgoglio. È una gara che non avevo mai vinto, perché si parla di corsa, nuoto, corsa, sono 1200 metri di corsa, 100 di nuoto e 1200 di corsa. Diciamo che venivo dal giorno prima dove avevo avuto una grossa delusione, perché ero arrivato quarto in una specialità che mi è più congeniale, quella del triatle, dove si nuota, si corre, si spara, tant'è che sono campione del mondo, sempre master in Egitto, sono diventato, di laser run. Quindi ho perso questa gara ed ero molto deluso. Il giorno dopo chiaramente mi sono rifatto alla grande, diciamo. Avevo già vinto la categoria dei quarantenni, ho vinto quest'anno quella dei 50, tra un mese c'è l'Europeo di Barcellona e sarà difficile partecipare, perché è tutto in mezzo alla settimana. Io, nonostante che faccia sport e sia consigliere comunale, comunque ho un lavoro, faccio l'orofo, quindi non so se ho una settimana di ferri per poter partecipare a tutte le gare dell'Europeo, però adesso sto vedendo di concentrarmi magari sul laser run e sul biatle, visto l'ultima vittoria e poi vediamo a Barcellona a fine mese la possibilità di andare. Ecco, magari lancio anche qui la richiesta, se ci fa avanti qualche sponsor, siamo molto 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 felici. Grazie.